Ciao a tutti i cacciotti e benvenuti in questo episodio di Minecraftita Allora, spero vi sia piaciuto il centesimo episodio Se ancora non lo avete fatto Andate a guardarlo, scaricatevi la mappa Non penso la scaricherò Cioè la renderò scaricabile con gli intervalli così Regolari È una seccatura mettere in Dalla mappa per me È più roba da caricare durante la notte E con la mia connessione non è che proprio sia al massimo Non è che c'è ancora la parente per caso No, sto premendo tab Eppure non vedo la schermata Ok, lol Come avete visto ieri non c'è stato tecnico il tuo Perché non ho avuto tempo di registrarlo Perché, allora, come sapete C'era quel problemino Che... Le ventole del... Dello striker del computer È troppo vicino al microfono Che è talmente sensibile Che ora probabilmente sentirete delle voci Di gente che urla Ma io... Cioè... Io non le sento Il microfono le sente Intanto per farvi vedere... No, dimmi che sta... Ma ti odio Ehm... Ma ti odio Di gente che urla Ehm... Libri di qua Fappi di là Ehm... Non mi sa che cos'è Allora, ma ora non dovreste più sentire il rumore delle ventole Non lo sento io Non lo sento voi Praticamente ho parlato con i miei Ehm... Abbiamo... Parliamo italiano Trasferimici Ehm... Ho preso una bella scrivania Grandissima Enormi... Gigantissima Ehm... L'ho messa sotto Vabbè, poi farò un vlog Ma quello che dovete sapere è principalmente Che... Non dovreste sentire più rumori Ecco È una stanza un po' piccolina Un po' piccolina Non è... Una camera da letto propriamente Però... Preferisco stare così Perchè... Il problema... Era... Che stando in camera con mio fratello Non potevo registrare sempre Perchè... Anche mio fratello gioca Parla su TS Quindi sarebbe stato un casino L'ho sentite a volta Come urla e si incazza con gli altri TS Quando magari non gli... Non gli chiamano l'SS E cose del genere Quindi sarebbe stato un po' un casino Registrare nella stessa camera Mi sono messo qua Puffuffuffuffuffum Trasferito Ok Ehm... Ecco Lo stavo morti Questo l'ho sentito io, quindi... Il setup è un po' fapposo, tengo la tastiera un po' lontana, insomma, il mouse qui alla destra, il microfono ce l'ho davanti alla tastiera, quindi faccio tipo le acrobazie, per... Ok, non è vero, sto abbastanza comodo, però, ehi, devo far sembrare lo scomodo, se no non è bello. È un piacere rivedere la mappa, perché vi giuro, mi sentivo qualcosa dentro quando mi stava distruggendo la mappa, veramente. E come molti di voi hanno detto, in quell'episodio abbiamo potuto dire, effettivamente, sensatamente, per la prima volta, è colpa di Brent. Perché è Brent che ha messo tipo una TNT sopra una Redstone Lamp, non sapendo neanche che trasmette energia a quel fapper. Cioè, se io ora metto tipo... Niente. Che cosa? Dovevo... Ah, devo posare questo. Ehm... Cioè, proprio un fappone assurdo. Lascia, cioè, cioè, lascia stare. Ok, that's pretty good, that's pretty good. Ok, cosa facciamo oggi? Io avevo promesso, se non sbaglio, di fare qualcosa che riguardasse una certa cosetta. Che cosa? Un progetto che non c'entra niente con un mulino o con un faro. Oh, quanto sono cattivo! Non è vero. Ehm... No, seriamente. Guardiamo oggi intorno, c'è qualcosa che abbiamo bisogno più di un mulino o un faro? No, no, non c'è niente di cui abbiamo più bisogno di un mulino o un faro. Insomma, facciamo un mulino o un faro lì? Eh, non è una cosa così semplice. Ehm... Il faro, ovviamente, lo metterò lì. E lì è lì al mulino. Però ora arriva un altro pro... Wow! Un altro problemino. Il problemino è... Come lo facciamo? Ehm... Alcuni mi hanno fatto alcuni... Progetti interessanti. Ehm... Il mulino, non so se voi lo sapete, ma non può essere... Può essere anche non a vento. Esiste il mulino d'acqua. E l'idea era fare proprio un mulino d'acqua. Quindi qui una piccola... Fapposissima cosa di legno. Legno oak, penso. Che questo... Fop. Ok, no, era durita. E poi qui magari un piccolo... Fappo di legno. Non so se riuscite ad immaginarvelo. Pum! Che esce con una ruota. E la ruota sarebbe... Il miticissimo mulino d'acqua. Beh, dentro ci simuliamo anche... Una macina, così. O magari lo facciamo comunque con il mulino, diciamo con le ventose, ventose, che cazzo? Con le... Fa, 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 fa... Fa, 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 fa... Le cose che girano, insomma. Le pale. le pale o le pale il pale decisamente pale difficile direi come Sasha Gray beh non tanto ok basta no perchè se ci faccio solo il mulino ad acqua quindi con la ruota per l'acqua perde un po' di significato nel senso l'idea iniziale era a fare un qualcosa che richiamasse il mulino olandese il mulino olandese di sicuro non sono ad acqua quindi beh però comunque non ce lo vedo con delle fapposissime penso che andrò a vedere un paio di suggerimenti che mi avete dato sulla pagina facebook e vedremo ok ho fatto delle prove penso di essere arrivato ad una soluzione non permanente potremmo anche doverlo abbattere e rifarlo ma hey hey what can I do cobblestone o stone cobblestone ho finito la cobblestone ah no è mi stai preoccupando un pochino se sei tre stack dovrebbero bastare ora dovrò farmare un po' di legno forse no metto giusto a cuocere un po' di questa roba wow 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 what the fuck man what the fuck parte mouse che parte sempre verso l'altro per registrare guarda che figata qualche tuono piccolino ti prego pochettunino no please no cattivo il gioco cattivo no cattivo sei proprio cattivo sei mamma mia quanto sei cattivo povero il gioco tutti li trattano male quindi tutti i venni che si sussurra il power that's not right wait si ok ah no sta ancora fappando la da stone dobbiamo ancora prendere neanche un pezzo fai un po' te stavo fappando si si certo ah no starà finendo il 64 ok perfetto or dunque andiamo a craftare un paio di scale ehm vorrevo evitarlo ma molti mi hanno detto che forse sarebbe meglio tornare a parlare di attualità insomma durante gli episodi parlare anche di argomenti che non riguardano il gioco stesso almeno per quello che riguarda minecraft per giochi tipo invece ne so anche island in cui c'è un lesplay da seguire lì è diverso però in questo caso perché ho visto qualcuno passare di là o era un fantasma o era ero brine ero brine no ok ne ho dall'altra parte del ponte usando il ponte naturalmente what the fuck man you scared the shit out of me ah è vero c'è tons vediamo quanto si ammazza due colpi amico ma quanto fa addirittura cos'è non ho mica uno scudo anti ecco tre non me l'ha fappato quello dai dai quattro dai ok muori tutti hanno un limite alla propria piazzinzia lol lol ok so come era si questa è una freccia penso a una cosa del tipo qui qui 1 2 3 4 5 double layer naturalmente poi 1 1 2 3 quindi non è propriamente circolare ma è ovale 3 4 5 1 1 2 3 allora come dicevo volevo iniziare un po' a parlare di cose fappose più o meno fappose e volevo cioè non è che volevo in realtà non avrei voluto non neanche nominarle queste cose però direi vero l'ho già nominato un paio di video fa le elezioni no avevo detto chi poteva votare andare a votare che sarebbe stata una cosa molto rispettosa nei confronti di eccetera eccetera non che mi sia ricredito di quelle cose ma volevo dire che sono rimasto un po' deluso dal fatto che alla fine con queste elezioni non abbia vinto nessuno alla fin fine se ci pensate Berlusconi c'è ancora si è aggiunto Bersani e Grillo eh anzi Berlusconi è tornato lo vuoi dire che si era dimesso o no così un po' di disappunto generale su queste cose poi non capisco chi abbia votato Berlusconi perché io ho chiesto alle persone maggiore che conoscono scusina ma tu hai votato Berlusconi ma come hai fatto cioè ma come si fa a votare Berlusconi cioè questa gente pazza nessuno nessuno ha votato Berlusconi non so da dove siano finiti dove siano entrati quei voti di sicuro tutti i milanisti no della serie ma sì dai ci ha portato Balutelli e secondo me si merita il mio voto non per generalizzare quindi non è che sono tutti i milan io ti sto accusando di però sono sicuro che una buona parte dei voti li ha presi così ok qui sarà il legno ok hai ragione forse sarebbe l'ideale farci solo slab per andare più velocemente con poi il fa esattamente oddio ok 20 of this però penso che questo Movimento 5 Stelle con Grillo fa 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 che tipo ha già rifiutato una cosa come 100 milioni di euro in rimborse elettorali ok nessun partito li ha rifiutati Movimento 5 Stelle sì penso sia buon segnale buon segnale ecco speriamo che effettivamente possono fare qualcosa per questo paese che sta andando in rovina se non se non lo è già ecco dovrei avere un po' di legno forse qui maybe no forse di qua allora oh sì secondo me no oh sì quindi farò quindi farò delle pali diverse da tutti delle pali diverse da tutti sì potrebbe suonare male ma hey ok youtube allora prima cosa i dannatissimi slab me ne servirà un altro speriamo che un altro e basta possa abbassare ah ti odio beh bene mi piace ok forse potremmo anche sostituirlo poi l'astone se non piace troppo e robe varie poi lasciamo così ok figo ora l'idea è che ti odio no ora l'idea è che si sale oh sì si sale eh no lì ci deve essere per forza tipo così exact month andiamo a do something like this perchè essendo slab mi piace molto invece il contrasto tra scale di spruzzo tra virgolette e nel trappers vediamo come look perchè non è che ho fatto un disegno un disegno bello preciso di sta roba stando molto molto ad occhio e come ho detto all'inizio della costruzione potremo doverlo demolire forse anche più di una volta prima di arrivare a un risultato soddisfacente sia per me che per voi ok ok oddio si mi sto grattando le orecchie oh si orecchie oh si ok basta ok per ora molto piatto mettiamoci una dannatissima porta porta classica forse troppo classica un po' di rilevo ci sta sempre allora sto pensando si quando penso fappo vediamo mamma mia che spisa il brasso ok basta no sul serio come lo continuo cioè l'idea è non farlo troppo alto quindi mi chiedo se mettere un blocco tipo no non aiuta ti odio vabbè it's easy it's easy pisi l'idea per le pale ce l'ho già ma il problema è come l'alzo sta roba oh si le mie orecchie basta smettere di grittarmi le orecchie anche se è difficile fermarsi quando inizi non finisci più ok si potrebbe starci questo e se volessi non potrei vabbè ci accontentiamo perfetto voti fanit mo cobblestone non lo so come l'impressione che la cobblestone ci starebbe meglio perché non è propriamente stonoso o sbaglio un mulino a vento cioè è fatto così molto fapposamente quindi skype stai zitto potrei demolire tutto e rifarlo dal zero tanto tutto ciò che prenderò in cobblestone qui servirà di piazzare ciò che ho fatto proviamo a fare questo questo layer ora e vediamo fast and food ma che cos'è enna misè ho paura che un creeper mi attacchi come un fapper quindi andrò a dormire si ci sta meglio la cobblestone da quest'altra aspetta ma sono in si decisamente cobblestone poi appena subito dopo essere andati a dormire appena subito no non sta bene subito dopo essere andati a dormire vi farò vedere una cosa che mi avete suggerito nei commenti che ho avuto anche che ha riscontrato un buon successo diciamo tramite i solitissimi pollici in siu if i get a boat let's say i get a boat because you know boats ok ora io ho una boat un boataro e se la puento nella envil e dico hey envil ciao se io ti chiamassi barca gesù ah non so scrivere dove l'ho eccola lì barca gesù oh look at me a eva barca gesù non ti muovere non scappare ti prego resta lì cos'è stava fappando probabile ok lasciatemi dei feedback su come continuare da questo inizio fapposo le palle ce le ho già le palle ce le ho già in mente ok non pensate a ciò che ho detto ho già presente una buona parte della parte finale diciamo della costruzione datemi suggerimenti quanto alto farlo e altre fappate del genere ma quanto ce l'ho ok farlo perché vedo quello bene questo è tutto io vi saluto ciao trurururutti ah